Ciao, vi presento Teresa. Teresa ha 79 anni, non vedeva bene, si sentiva insicura e questo influiva sulla sua vita quotidiana. Quando la mattina vedeva la televisione, le immagini non erano nitide. Prendere l'autobus per andare dal medico era molto difficile, così come vedere i prezzi al supermercato per fare la spesa. Ogni volta vedo meno nitido. Inoltre, ogni pomeriggio che porta i suoi nipoti al parco, Teresa ha paura che si allontanino perché pensa di non riuscire ad occuparsi bene di loro. Non poter curare bene i miei nipoti è quello che più mi preoccupa. Mi piacerebbe recuperare la vista e poter godere di tutto come prima. Cosa aveva Teresa? Aveva una cataratta. La cataratta è un processo a causa del quale il cristallino perde trasparenza, bloccando l'entrata di luce fino all'interno dell'occhio e rendendo difficoltosa la visione nitida. Per la maggior parte delle persone, le cataratte cominciano a sottrarre la vista a partire dai 60 anni approssimativamente, producendo vista sfocata e peggioramento della vista notturna. Sensibilità alla luce, cambi frequenti nella gradazione degli occhiali, colori meno vivaci e necessità di maggiore illuminazione durante la lettura. Da quando hanno trattato la mia cataratta con Nice, ho migliorato la mia vista e posso portare avanti le attività quotidiane con normalità. Nice è un nuovo concetto nell'eliminazione della cataratta, che recupera la qualità della vista in maniera rapida e duratura. Nice corregge la vista con una tecnologia laser sicura, precisa e innovativa, che permette un rapido recupero della vista con un procedimento disegnato secondo le necessità visive e le caratteristiche anatomiche dei suoi occhi. Teresa è cambiata completamente. Con Nice torno a godermi la vita. Nice, un nuovo concetto nell'eliminazione delle cataratte con il laser di femtosecondi.